Sono Carlo Marchisio, vicepresidente di ANI per Milano, come ogni due anni veniamo qui dell'Università dell'Aquila per portare all'azienda di automazione a parlare ai futuri ingegneri di come sarà il mondo del lavoro. In più ogni due anni abbiamo creato con il contributo dell'azienda di automazione il premio tesi di laurea al migliore ingegnere che si è laureato qui all'Università dell'Aquila. Abbiamo esaminato stamattina le varie proposte e oggi pomeriggio prima della chiusura dell'incontro premieriamo il miglior studente. Grazie a tutti!